il brand nasce cinque anni fa con la voglia di far capire alle persone che dietro un marchio ci sono delle persone non soltanto il marchio stesso che faccia comprendere anche alla gente che esiste un lavoro dietro infatti l'intera collezione si chiama empatia che dimostra il fatto che l'empatia ultimamente ce n'è poca e che la gente si interessa più al prezzo e mai al percorso che c'è dietro ogni singolo oggetto la nostra presenza spazio linea pelle di fatti siamo emozionati della fiera linea pelle ho visto la voglia di cambiare anche comunque di molti produttori la voglia comunque di fare sempre qualcosa di nuovo di migliorarsi di far conoscere nuovi pellami al mondo l'ispirazione del brand iniziale è la sostenibilità che poi si collega comunque anche all'emotività ogni pezzo rappresenta un'emozione ogni colore infatti rappresenta l'emozione e uno stato d'animo di ogni individuo ogni borsa ha un nome di ogni emozione che io non riesco a esprimere quasi una cura psicologica se vogliamo dire così infatti ogni pezzo mi rappresenta totalmente Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti